È importante vittoria, è un'altra vittoria, siamo in situazioni di emergenza ma devo dire conta poco, bravissime le ragazze. Guardando appunto alla partita in avvio c'è stato forse un po' anche da adattarsi all'entusiasmo delle avversarie e poi alla distanza è venuta fuori anche una grande coesione di squadra perché abbiamo visto grandi giocate e grandi aiuti sia in difesa che in attacco. Ripeto, ragazze brave, hanno capito il momento senza avere ansia quando loro sono ritornate in partita quindi davvero hanno interpretato la partita bene e soprattutto quelle che hanno giocato meno oggi hanno fatto un buon lavoro, Melder è bravissima.